Ingresso gratuito presso il Parco e il Museo archeologico di Pestum in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. L'iniziativa rientra nella campagna di comunicazione ministeriale Io vado al museo, che permette ad ogni istituto dotato di autonomia speciale come Pestum di scegliere alcune giornate a ingresso gratuito in base alle proprie peculiarità territoriali e di amministrazione. La cosa importante è che questa giornata a un certo punto non sarà più necessaria, perché tutti i giorni dell'anno viviamo in maniera inclusiva, accessibile il parco, il patrimonio culturale, le scuole, la cultura. È un'occasione fantastica di dimostrare come l'inclusione e l'accessibilità possano diventare parte della nostra vita.